Ragazzi buongiorno, già sapete il lavoro che c'è da fare per oggi, sono le pagine 36 e 37, con le rispettive 5 domande. Per oggi è così, mentre vi aggiorno e vi dico come andiamo avanti la settimana prossima con voi. Ok? Allora, a livello di grammatica facciamo delle piccole cose, come il verbo piacere, poi tre verbi saranno molto semplici perché seguono una regola come allo spagnolo, sono dei verbi irregolari. E andremo avanti con un po' di vocabolario, parleremo di cinema dalla settimana prossima. Tutta la settimana prossima, quindi, andremo avanti con il programma per poi fermarci con il programma e fare una settimana di ripasso completo. Quindi, per favore, fino alla settimana precedente del ripasso, voi mandatemi informazioni, chiedetemi, prof non ho capito, può spiegare un'altra volta questo, non mi è chiaro, fatelo prima. Ok? Quindi, la settimana prossima, mentre andiamo avanti con il programma, pensate alle cose che abbiamo fatto da quando sono arrivato. Pensate alle cose che avete fatto precedentemente, all'inizio del parziale, e facciamo insieme il grande ripasso per mantenere i voti alti. Perché se no, il rischio è che una volta che abbiamo fatto il ripasso e andiamo avanti, poi i voti si abbassano. Ok? E attenti perché tante cose saranno valutate sempre. Ovviamente valuterò di più i compiti a casa che i lavori in classe, anche se, per favore, tutti mi dovete mandare i compiti. Tutto quello che facciamo, cercate di mandarlo. Non me lo mandate subito, mandatemelo dopo, però fatelo. E un altro consiglio, per favore, mandatemi tutto. Se, per esempio, io vi do qualcosa, io di se lo mando i file in jpeg. Ok? Ah, nemmeno scrive. Io mando i file in jpeg. Se volete, mi scrivete solamente le risposte, su un foglio a parte, e mi scrivete le risposte. E poi all'interno di Ducai avete tutto. Se poi avete la possibilità di stampare, benvenuti, stampate. Ok? Però, se non potete stampare, va bene anche le risposte su un foglio. Tanto voi le scaricate comunque sia, quello che vi mando. Mi scrivete le risposte, foto, e me le rimandate. Se mi rimandate le risposte in jpeg, meglio. Ok? Tutto qua, qualsiasi cosa, scrivetemi, scrivetemi, scrivetemi. Buona giornata!